Musica Un buongiorno a tutti voi, buon inizio settimana cari telespettatori di Fano TV Oggi è lunedì 9 ottobre e questa è la rassegna stampa di Fano TV Occhio ai giornali che come tutte le mattine alle 7.30 in diretta Vi dà la possibilità di uscire di casa informati su quello che è successo nel corso di questa giornata Quello che è successo ieri in questo caso, quindi nella giornata di domenica Allora andiamo però prima a vedere se dobbiamo portare l'ombrello oppure no Se piove oppure no Prima però il santo, il santo di oggi Oggi è San Giovanni, San Giovanni Leonardi Che nacque vicino Lucca nel 1541 da una famiglia credente e benestante Diventò farmacista, poi quando sentì la vocazione del sacerdozio Abbandonò la professione di farmacista per iniziare gli studi teologici E poi divenne un giovane prete che si dedicò alla predicazione Soprattutto insegnando ai giovani la dottrina cristiana Il sole è sorto alle 7.15, tramonterà alle 18.37 Per quanto riguarda il tempo oggi non c'è molto da dire Nel senso che sarà un cielo poco nuvoloso Con temperature senza variazioni di rilievo Oggi e domani ma anche per il resto della settimana Sarà comunque un tempo buono, un tempo discreto Allora prima di andare sui giornali Andiamo a leggere la notizia che il nostro sito Occhio alla notizia pubblica in prima pagina Una notizia battuta ieri mattina Che trova spazio soltanto sul resto del Carlino Un piccolo trafiletto, non l'ho visto sull'altro quotidiano Allora per quelli che abitano e ci seguono da Fano Dalla provincia di Peso Urbino Allora c'è la notizia che è morto padre Colombano Un monaco che aveva 103 anni È morto nella serata di sabato Il funerale si terrà questa mattina alle ore 11 Nella chiesa dell'eremo di Monte Giove Qui alcune fotografie di padre Colombano Eccolo qua Un sacerdote, un monaco dell'ordine camaldolese Svizzero Arrivava nato nel 1914 A Basilea in Svizzera Allora andiamo adesso invece sui giornali E cominciamo dal resto del Carlino Questa è la pagina di Pesaro Ripartono le torri Ripartono le torri Grazie a Luigi Rossi Della Edil Gruppo Che vedete in questa fotografia Bagliori, Edilizia, Post Crisi Luigi Rossi completerà l'intervento di Largo Ascoli Piceno Ma perché il comune però chiede Non fa il ponte ciclopedonale sul Foglia E poi l'impresa della VL a Reggio Quindi parliamo di sport, di basket Vittoria imprevista e 102 punti L'urlo dei Biancorossi scuote dunque il campionato Poi vedremo tra poco l'assalto alla festa del Parco Miralfiore Poi i medici che intascavano i ticket Dovranno rimborsare l'Asur Il conto di 50.000 euro E allora andiamo subito sulla pagina interna Per leggere questa notizia che riguarda la provincia Lo scandalo dei ticket Rinnovo patenti In cassa il medico Questo è il titolo Scrive Roberto Damiani Sono 24 i camici bianchi dell'Asur Area Vasta 1 Chiamati a restituire 50.000 euro L'inchiesta della Procura Vede coinvolti i sanitari che firmavano l'ok Tutte le varie posizioni Sono state segnalate alla Corte dei Conti Mentre Giovanni Fiorenzuolo Direttore dell'Asur Dice voglio ricordare che l'ufficio contabilità E personale dell'Asur Che di Rigo hanno collaborato attivamente Con la magistratura Dunque ci sono 24 medici A cui è stato chiesto di restituire Ciò che non hanno diritto di tenere Di fronte alle lettere di addebito Molti si sono giustificati dicendo di non averci fatto caso Altri che si erano dimenticati di versarli sul conto dell'Asur Qualcuno ha negato di averli percepiti Infine c'è chi ha ammesso di averli incassati Fino a 10.000 euro Ma in buona fede Insomma sono tutti i ticket pagati dagli utenti Esclusivamente per il rinnovo della patente La questione è dei profughi Pochi volontari tra i migranti E loro preferiscono non lavorare Cambia la tipologia Sempre più giovani E interessati ad altro E allora I migranti sono davvero coinvolti In attività di volontariato e integrazione Come ha detto qualche giorno fa Proprio qui in questo studio Il sindaco di Pesaro Per esempio Matteo Ricci Il tanto sbandierato sistema Pesaro Che ha goduto fino adesso di una sostanziale pace sociale Funziona davvero? A sentire qualche esperto Qualche esperto I dubbi non mancano Ad esempio Che fine hanno fatto i migranti volontari della Gulliver E poi insomma Tante altre domande Mentre a Borgo Santa Maria È pronta la lettera per il prefetto Nella riunione di giovedì scorso C'è questa richiesta Ci piace essere concreti Dicono quelli del comitato Per cui visto che nel corso della riunione Con le cooperative Non sono emerse soluzioni Procederemo diritti verso la meta Che resta la stessa La nostra lettera per il prefetto È pronta È stata scritta E come a nome della delegazione La scorsa settimana E tra pochi giorni Gli verrà recapitata E vedremo poi l'effetto che fa Profumo di tartufa Sant'Angelo in vado Quindi tutto pronto Inaugurata la 54esima edizione Pensando alla promozione E anche alla viabilità stradale Vedete il taglio del nastro Con il sindaco Presidente della regione Insomma tante autorità civili E militari Poi sotto invece Premio letteraria Ecco il terzetto Acclamato dagli studenti E poi ancora Dal Corriere Adriatico Questa è la prima pagina Dell'edizione pesarese Cittadini come vigili urbani 5.000 le segnalazioni Con il servizio Whatsapp La Polizia Municipale Esegue 718 interventi Sapete che a Pesaro Lo dico anche per chi Magari A chi fosse sfuggito A Pesaro c'è un servizio Che riguarda proprio Si può utilizzare con Whatsapp Cioè i cittadini segnalano Alla Polizia Municipale di Pesaro Attraverso questa messaggeria Attraverso questa applicazione Possono segnalare Situazioni Un po' così Sospette e quant'altro E dunque 5.000 In 8 mesi Dalla via del servizio 718 gli interventi Eseguiti dalla Polizia Municipale Una media di 3 al giorno Questi sono i numeri Poi il basket Con l'impresa della VL In trasferta Che rincuora l'ambiente sportivo Del basket VL che esploa A Reggio Emilia I Biancorossi vincono E conquistano i primi due punti Del campionato 102 a 95 Andiamo sulle altre pagine Del Corriere Adriatico Ricordo che oggi ci sono Gli inserti sportivi Che invasione al Miralfiore Riconquistato il grande parco Centinaia di famiglie Per il primo open day Organizzato con comune E associazioni C'è anche un intervento Del 118 Momenti di apprensione Di paura Per una bambina Che è caduta Intorno a 17.30 Mentre giocava Appesa ad una struttura Scivolata Da un'altezza di circa Due metri Sbattendo schiene e gambe Restata immobilizzata Restando immobilizzata A terra La bambina è stata portata Al pronto soccorso Poi per accertamenti Affitti da pagare Si ricorre al fondo Anticrisi In arrivo 1000 euro Per 59 famiglie Indigenti Accolto il 75% Delle domande presentate Da gennaio Parte il reddito Di inclusione sociale Ecco che cosa Cambia Dunque a Pesaro C'è questo fondo Anticrisi Arrivano più di 90 richieste Ma il comune Ne concede Il 75% Ammesse 69 richieste Per 10 di queste Il contributo Scende però A 750 euro E la diocesi di Pesaro Si prepara anche Alla festa Del voto Alla madonna delle grazie Celebra il cappuccino Padre Marzio Domenica prossima La città e l'arcidiocesi Celebrano la festa del voto Memoria della grazia Ottenuta per intercessione Della Vergine Maria Nel 1855 Per la liberazione Dal colera Una festa religiosa Molto sentita Che si celebra Ogni terza domenica Di ottobre Ricordando appunto Quanto accadde 162 anni fa Allorché Pesaro E il contado Furono colpiti Dal Appunto Dal colera E questa È la Notizia Sul Per quanto riguarda La festa Della madonna delle grazie Poi invece A Fossombrone La notizia è che Un materasso Ha preso fuoco È scattato L'allarme In carcere Disagi Nella casa Di reclusione Di Fossombrone Per il fumo Arrivano I vigili Del fuoco Sul posto Verso le 18.30 Dopo l'allarme Lanciato Dalle guardie Della casa Di reclusione Intervenuta appunto La squadra Dei vigili Del fuoco Di Cagli Per due ore Sul posto Bonifica più lunga Per l'evacuazione Di tutta L'area Il tartufo Il tartufo Unisce Tutto il territorio Il bianco pregiato Indica la strada Mostra nazionale Aperta Sant'Angelo Invado Presenti 30 cariche Istituzionali L'obiettivo Della E78 La strada Dei due mari Quella Che collega Fano Alla città di Grosseto Il sindaco Luzzi Ha rimarcato Come solo La sinergia Del territorio Possa valorizzare I borghi Urbino Crespini Scrive Al Ministero E all'UNESCO Fermerò Le modifiche Urbanistiche L'ex assessore Della prima giunta Gambini Attacca il sindaco Sull'innalzamento A sei metri Delle strutture Agricole Nel mirino Gli atti Per incentivare L'edilizia Promuovendo Possibili trasformazioni E poi Da Da Osta Da Osta Ad Alba Il viaggio Del cerimonialista Cristini Promuoverò Dice lui Il tartufo Sul piano nazionale Ripartendo Dalla Toscana E poi Andiamo Sulla pagina Di Fano Del Corriere Adriatico La notizia È che Non c'è Il ricambio Di persone Dunque Chiude Il comitato Degli esercenti Apriamo il centro Devolve Per le fioriere Il tesoretto Di 1500 euro Aveva Però Un grande Consenso Dice Filippo Bacchiocchi Presidente di Missionario Che aggiunge Siamo sicuri Che ogni commerciante Ora farà Del suo meglio L'84% Dei negozianti Era favorevole Alla prosecuzione Dell'attività associativa E poi L'addio Alla collega Corrado Cardelli Scomparso Prematuramente A 60 anni Nel funerale Ci sarà oggi pomeriggio Alle 15.30 Nella chiesa di San Giuseppe Al porto Di Fano Corrado Cardelli Anima Della lista civica Bene Comune Cordoglio Anche A Pesaro Andiamo adesso Sull'altra pagina Di Fano Del Corriere Adriatico La questione Dell'aeroporto La società Aeroportuale Deve liquidare I pignoramenti In gioco 67.000 euro Ma ci sono crediti Per i contributi Agricoli Ancora da riscuotere E l'amministratore Ruggeri È ottimista Dice L'attività Negli ultimi mesi È comunque Aumentata Le innovazioni Di Guidoreni Rivelate Dal restauro Le scoperte Stilistiche Sull'annunciazione Risenotte Nella serata Del Lion Club Le ultime due pagine Della rassegna Quella dalla Valle del Cesano Da Mondolfo La messa Nel semitterrato Nel semitterrato Rivolta Nella casa di riposo La cooperativa Vuole spostarla Dal grande salone Alla cappella piccola Però Meno accessibile La funzione del sabato È anche un momento Di socialità Intervengono PD E comitato cittadino E poi La strada provinciale Ridotta Come una groviera Monta la protesta Sul web Il sindaco Sebastianelli Scrive A provincia E prefetto L'ultima pagina È quella di Senigallia Clochard Sotto il portico Del comune La situazione È triste Ma deve andarsene Confartigenato Chiede di risolvere Subito l'emergenza Ma non è l'unico caso Di povertà E di abbandono Fuori strada Con l'ape cross Feriti due fratelli Ragazzini di Ostravetere Sono finiti Contro un albero Forse Per loro C'è stata una distrazione In ospedale Sono finiti Un sedicenne Alla guida Di un'ape cross Piaggio E la sorella Diciottenne Seduta Al suo fianco La resegna stampa Potrebbe finire qui In realtà Ho ancora due pagine Ve le devo leggere Perché altrimenti I tifosi si arrabbiano Ecco qua Allora Il Fano Il Fano E siamo sul carlino Che evita un'altra beffa Germinale Goal in extremis Pareggio 2-2 In casa Per il Fano In serie D Barcolla Ma non molla E fa pari Olcese risponde A Oliveira Con i pesaresi In dieci Dal quinto minuto Per l'espulsione Di radi In casa Anche la vice Dunque contro Il Matelica 1-1 Questa volta È davvero tutto Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona giornata Vi ricordo che Per le vostre Segnalazioni Potete Mandarci i messaggi Con Whatsapp Al 338 4968 250 Ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Ci vediamo stasera